La grafica finale in cui ricordiamo possiamo mettere anche l'ufficialità che era arrivata ieri di Maxi Lopez al Torino e poi chi ci mettiamo? L'ufficialità di Maxi Lopez slegato dall'Arrondo perché l'Arrondo-Chievo invece è una cosa che ancora non è andata in porto, il giocatore ci sta ancora pensando. L'Empoli in attesa di capire la situazione di Saponara-Seguccian della Roma, Biarnason dal Pescara potrebbe essere l'infossa al centrocampi, intanto abbiamo visto il sito del Torino con l'ufficialità di Maxi Lopez, Emanuele Insua, terzino argentino del 91 dal Bocca, l'ha preso l'Udinese per 2 milioni ma verrà girato al Granada, invece in Serie B è scatenato il Catania, ancora in piedi la trattativa Magnero, ha preso Coppola del Cesena, ha fatto un'offerta per Chaudone del Bari. Serie B che riparte nel prossimo weekend dopo la sosta.